Tra le ultime proposte di deliberazione della Giunta Comunale di Agropoli è presente l'installazione di Deors, parzialmente chiusi a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Vista la necessità di emanare norme di indirizzo al fine di rendere funzionale l'installazione di Deors, dotati di strutture leggere e facili da installare e rimuovere, valutata l'opportunità, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, di consentire agli esercizi commerciali di poter riprendere la propria attività, ottimizzando e velocizzando le procedure, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha chiesto all'intera amministrazione di approvare l'atto di indirizzo. Quest'ultimo prevede una struttura delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura e compatibile ai diritti dei residenti e di terzi. I Deors inoltre potranno essere realizzati su strade o piazze chiuse al traffico veicolare, nelle zone considerate centro storico dal vigente PUC, nonché su via Risorgimento e lungomare San Marco. La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non potrà essere inferiore a due metri. Nel caso vengano installati in prossimità di strade urbane è necessaria una distanza di sicurezza. Infine, non è consentito installare padiglioni o parti di esso in aderenza ad un edificio, se non previo assenso scritto del condominio. Ai fini del procedimento autorizzativo, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che intende collocare un deors parzialmente chiuso su suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, in concessione deve presentare istanza finalizzata al rilascio di adeguato titolo edilizio abilitante presso il competente sportello unico attività produttive. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione. La planimetria di inquadramento territoriale, grafici rappresentanti, lo stato di fatto e lo stato di progetto, schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo, documentazione fotografica, relazione tecnico-descrittiva e relazione paesaggistica firmata dal tecnico abilitato. Lo sportello unico attività produttive potrà procedere al rilascio della concessione solo a seguito di attestazione di conformità edilizia urbanistica che tenga conto di eventuali vincoli architettonici, culturali e paesaggistici e del parere del comando della Polizia Municipale per gli aspetti relativi al transito dei mezzi di soccorso e dei pedoni, nonché per la verifica delle distanze dalla sede stradale.